Non l'ho temuto semplicemente perché abbiamo scelto la strada dritta, potevamo trovare qualche soluzione diversa, qualche alleanza forse non chiara e quindi la trasparenza anche delle relazioni è estremamente importante. Noi abbiamo deciso di tenere la barra dritta e di percorrere la strada dritta, abbiamo ritenuto opportuno proprio per questa trasparenza rischiare anche questo tabù, se Dio vuole abbiamo tolto anche questo tabù, siamo più liberi di agire nell'interesse di Modena e siamo più forti nella dimensione di relazioni con la città. Ora sta a noi mettere in campo questa strategia e soprattutto sta a noi continuare ad ascoltare, continuare a reagire e continuare a ricostruire le condizioni di investimenti e di scelte per l'impresa e lavoro, per la partecipazione, per la coesione sociale e per la cultura che sono la forza di Modena. Noi ridiamo e vogliamo ridare forza a Modena.